Cosa c'è dottore? Non lo so, sono arrivate 5 chiamate, un numero sconosciuto Ma che capita? Sarà qualche amico? Questo deve essere Mattarella Ma chi? Il Presidente della Repubblica? Eh sì, un 347, anche se Mattarella mi sembra più di Wint Ma perché il Presidente della Repubblica dovrebbe chiamare lei, scusi? Per le consultazioni parlamentari, c'è da fare un governo E beh, quindi chiama lei? Beh, certo Cosa ha preso 13 voti, chiama lei? Vabbè, ma non è tanto la quantità, quanto la qualità Il nostro programma è di qualità O deve essere il Papa, perché essendo la settimana santa Per il Papa deve essere un 335 Comunque, cari amici, vi aspettiamo questo giovedì Perché faremo una festa per il video di Stoppi, la canzone Quindi vi invitiamo numerosi, soprattutto quelli che ne hanno partecipato Ma tutti quanti al Boffi, a Corso Sommelier 12 a Torino Venite veramente numerosi perché vi facciamo una sorpresa Non faremo il buffetto, quindi mangiate al Boffi, rimbitevi lo stomaco E poi venite a vedere lo spettacolo Con la sorpresa, al Boffi, questo giovedì Venite numerosi, vi aspettiamo E quindi non fare il piccio Viene il birrificio Ma esageri, dottor È un po' tanto, era un po' forte Vabbè Vabbè